In un antico convento di Castellammare di Stavia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato, in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita a Quissisana 30, Castellammare di Stavia, www.rsa.oasisanfrancesco.com Oasi San Francesco Grazie, grazie Lello. Allora, Franco Boccia, Logos Comunicazioni, volevo anche un parere da parte sua. Prima abbiamo fatto il pre-presentazione, un po' l'anteprima con Ciro Esposito, l'abbiamo chiusa. Volevo da parte tua un parere su questa presentazione di oggi, come sarà organizzata, cosa vedremo a breve in campo e poi un tuo parere. Tu segui la USAB già da anni, sei un appassionato e quindi un parere anche sportivo sulla squadra. Innanzitutto buonasera a tutti. La città chiama, noi rispondiamo ormai da 20 anni con la nostra comunicazione, i nostri eventi. Tu lo sai bene, ci siamo incontrati tante volte sui campi della comunicazione. C'era questa volontà di creare questo evento, questo battesimo per la USAB di quest'anno e che in concomitanza con la nuova amministrazione, diciamo che questa sera festeggiamo quasi due nascite, due battesimi. L'amministrazione Cimmino, della quale abbiamo curato la comunicazione, quindi comunque li stiamo supportando e aiutando a diramarsi in questi tanti problemi della città. La USAB è il fiore all'occhiello della nostra città e noi siamo accorsi in suo supporto creando questa Kermess, stasera queste premiazioni, questa presentazione della nuova maglia e della squadra che doveva essere fatta alle terme di Stabbia ma in modo naturale abbiamo preferita farla a Romeo Menti. E' la casa della USAB giustamente, è il luogo ideale. Quindi tu mi insegni, voi combattete anche voi giornalisti su questo campo insieme ai calciatori e quindi si è del dodicesimo uomo in campo come la nostra Curva Sud che accorre sempre numerosa ai nostri eventi. Franco, un'ultima parola dedicata proprio, fra un po' inizierà quindi per questo ti lascio andare perché sicuramente avrai un bel po' di impegni organizzativi. Che cosa vedremo in campo? Ci sarà il sindaco? Ci sarà penso anche una presentazione per il patrono Manillo? La targa infatti sarà il presidente dei nostri sogni, in effetti Franco Manillo come non spendere una parola per il nostro patron che tanto ha dato e tanto ancora diciamo che non è uscito di scena, quindi comunque tanto darà ancora da gregario mostruoso con la sua esperienza a questa squadra. L'amministrazione è vicina a questa squadra, ci sarà credo il sindaco, abbiamo già incontrato il nostro amatissimo vice sindaco il nostro fiorello occhiello della nostra amministrazione. Premeremo anche Manillo quindi ci sarà una targa anche per lui, per il presidente dei sogni premieremo il nuovo presidente che accetta una nuova sfida e le bandiere della Juve Stabia saranno premiate anche stasera diciamo come naturali supporters anche della dirigenza a questa squadra. Perfetto, grazie Franco. Come sentite in sottofondo... Grazie.